Noi appunto stiamo facendo delle visite come Consiglio dell'Ordine sul territorio, abbiamo fatto già un'assemblea dei nostri iscritti agli esi alla fine del 2013, adesso siamo venuti a Fabriano, vogliamo ascoltare un po' i colleghi di Fabriano. Questo è un territorio che sta forse come altri, se non più di altri, sentendo un momento di crisi particolare, direi anche in tutti i settori, in diversi settori a differenza di altri territori, perché qui le difficoltà si sentono per i profedizionisti sull'edilizia in particolare, ma siccome Fabriano è una zona particolarmente evocata l'industria, anche pensiamo che i colleghi che operano come dipendenti del mondo dell'industria stanno veramente in una situazione di difficoltà. La domotica per esempio è uno dei comparti, delle proposte che i loro ingegneri fa e dove è un territorio come questo in cui le nuove tecnologie possono dare una prospettiva altra rispetto alla crisi del monofruttoriero? Ma senz'altro per cercare di fronteggiare queste difficoltà bisognerebbe indirizzarsi anche verso attività innovative. Credo che la domotica sia una di queste, credo che sia una piena attualità e credo che questo territorio in particolare sia particolarmente orientato verso queste iniziative e queste novità direi del settore.